Il senatore ed ex presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, questa mattina in conferenza stampa ha denunciato il clamoroso silenzio della Giunta regionale sulla sentenza del Tarabruzzo favorevole alla Regione e al trasporto pubblico locale. Si tratta della recente sentenza con cui la sezione staccata di Pescara del Tarabruzzo, respingendo tutti i ricorsi presentati dalle società di trasporto private, ha legittimato l'operato della precedente Giunta regionale che a settembre del 2017 aveva provveduto all'affidamento in house del trasporto pubblico locale Attua, la società unica abruzzese di trasporto, interamente partecipata dalla sola Regione che attualmente gestisce l'80% del servizio di trasporto pubblico regionale, con il restante 20% delle tratte sub affidate in concessione agli operatori privati tramite gare d'appalto. Alla conferenza stampa ha partecipato anche l'onorevole Camillo D'Alessandro che nel 2017 era sottosegretario ai trasporti della Giunta guidata dal presidente Luciano D'Alfonso. Per me ha fatto notizia il silenzio, il disinteresse, forse il minimalismo di una sentenza storica del Tar di Pescara che come ha sempre dimostrato anche in passato segna e fa giurisprudenza a livello internazionale e anche nazionale. Con la sentenza del 4 maggio 22, la numero 00176 del 22, il Tar di Pescara stabilisce sentenzia che la condotta della Regione Abruzzo relativamente Attua è stata limpida, lineare, resistente, di qualità rispettosa delle leggi europee ed italiane. Quella che ha fatto in modo da affidare Attua il TPL della Regione Abruzzo. Questo affidamento per un valore di 900 milioni di euro nei dieci anni è stato oggetto di contenzioso da parte dei portatori di interessi privati. La sentenza falcidia, cancella tutti i ricorsi e spiega che non avevano ragione di esistere rispetto a quei motivi e rispetto ad una indiscutibile legittimazione. Ma c'è un passaggio della sentenza dove si parla che la delibera ha realizzato una condizione di profitto ragionevole per i privati. Il che significa che prima c'era un profitto irragionevole. Ma non va bene il silenzio della Regione. Io ritengo che la Regione debba fare pubblico encomio nei confronti di funzionari, dirigenti e direttore che hanno saputo lavorare a questa straordinaria attività pensata allora e coltivata dopo.